frederich duren matt giustizia eravamo rimasti la statua dai seni turgidi dall'atteggiamento indecente che d'ammocchio non aveva notato mentre ammirammo la statua di Daphne in carne e ossa questa femmina sensuale di gesso colorato per non parlare di quella vera a posteriore più viva nella mia memoria della ragazza che ora compare nella mia relazione certo in sé non ha importanza se e quante volte è andata a letto con Linard con chi non è andata a letto ma ormai le motivazioni alle dinamiche interiore sono essenziali per la mia relazione sapere come e perché accade qualcosa in questo mondo complicato quando gli eventi esterni corrispondono i momenti interiori si possono intuire anche se non indovinare con certezza ma quando i fatti esterni non corrispondono è avvenuto un amplasso di cui non si è presa nota o si è parlato di un amplasso che non è avvenuto ci si muove nel vuoto nel banco come in questa casa come riuscì Linard a scoprire il segreto della falsa manica sterma era andata a letto con lei l'avrebbero saputo in molti lei l'amava non gliel'avrebbe detto aveva paura forza e quanto a Benna Linard si mise a sospettare fino all'inizio era Daphne il motivo pongo questi interrogativi perché mi si attribuisce la colpa della morte di Daphne non avrei dovuto far visitare la vera Monica Steyrman ma Daphne mi ha pregato di farla dovevo indagare su una possibilità ma avevo accettato l'incarico e l'anticipo di 15.000 franchi anche se credevo e credo ancora nell'impossibilità di questa possibilità infatti non vi dubbi alcuno che il dottor Honoris causa Isaac Collor sia l'assassino di Winter il fatto che avrebbe anche potuto essere un altro è soltanto una possibilità che non prova nulla e se durante la ricerca di tale è soltanto una possibilità che avrebbe anche potuto essere un altro